Come mi riferi? E' il passaggio di là che mi dimentico Eccolo qua, il nostro manager Guarda che simpatico Ho detto basta Non la faccia così non la scordi mai Non la faccia così non la faccia così non la faccia così non la faccia Non la faccia così non la faccia così non la faccia S pronti questo film lo sconsigliamo ai bambini al di sotto dei 14 anni mutandine di halloween che simpatico aspetta anch'io delle mutande un po' halloweenia io c'ho delle mutande che ho messo solo un altro halloween ma questa la censuriamo dai ma una candela è l'utilizzabile si va quale? i lumini questa mi sembravo sbagliato dopo cavate di pantaloni ritmi di dance anni 70 ballerine che si cambiano manager sgorbutici che in realtà sono dei simpaticoni passiamo alle riprese dallo spettacolo vero e proprio sono io molto bene oh dai hai imparato guarda guarda osserva qui great ifa cauu wow Ma queste sono caramelle vere? No, sono finte No, sono di Allumi Ma posso prenderne una? No, che devi fare lo spettacolo Prendo una, eh Un caffarello Ecco Guardalo qui 35 anni Come 35 anni? Le caramelle non hanno età Eh, sono gli altri che hanno l'età